Musica Tanta magna per tutti, io sono Riplex, qui ho un nuovo video, anzi è il primo video, sono abitato a dire nuovo perché, vabbè, dettagli E' il primo video appunto di Minecraft Herobrine Returns, che spero venga caricato su Wanya, perché se non viene caricato io adesso vado nella mia stanza lì in fondo che c'è un angoletto buio e umido e vado a piangere Ok, cos'è? Una custom map fatta da iPixel, credo che si pronunci così, e niente, credo che sia una delle mappe più belle create su Minecraft finora perché è fatta benissimo Però c'è un piccolo problema, devo usare questa texture pack qui, perché se no non va bene, non mi posso scordare le cose importanti Ok, adesso è più tenebroso Ok, benissimo, allora, cominciamo subito a leggere le regole Ok, Herobrine Returns by Hypixel, don't break any blocks, unless you... Perfetto, ok, ho tutto a posto, almeno credo E possiamo cominciare subito questa mappa incredibilmente figa Forever alone? No, io ho la mia salita mentale che mi accompagna E' un po', diciamo, svamperellata, però mi accompagna, quindi non sono solo, almeno non completamente Ok, K-A, ok Right click to hopers grab... sì, perfetto, tanto so già come si fa Questa è la K-B e questa è la K-A, io devo mettere la K-A lì E la K-B devo metterla di qua, in questo modo si aprirà la porta Ragazzi, la mia intelligente ha super... supera ogni... Ok, benissimo, allora, qui c'è scritto There are four weapon armor, sì, lo sappiamo tutti quanti ormai Cos'è questo? Press the button... ok, non voglio iniziare l'avventura adesso Perché devo prendere prima la normal mod, quindi la modalità più facile Per quale motivo? Perché sono una sega e quindi perderei subito Quindi possiamo cominciare la nostra avventura Mi trema la mano ragazzi, non riesco a prendermelo Ok, sì, basta, prendiamo il pulsante Uh, buongiorno, buongiorno Wake up, wake up, ok, credo che dovrò aumentare Un attimo ragazzi, un attimo, scusate, scusate Multiplayer settings, ok, scale Aumento un po' la chat, così almeno leggete anche voi quello che c'è scritto What are you talking about? Calm down Sì, faccio il doppiaggio, perché il doppiaggio è figo Spetta, ho già... Here, Brian, I feared... non so leggere in inglese Vengance, la marca di cose I will go stop him Say hi, Victor, say Victor, ce la possiamo fare, lo batteremo Thank you X... X... sì, è il mio nome che non uso più Ok, but... Va benissimo, va benissimo, ok Lui ha una storage chest E noi dovremmo andare a prendere gli oggetti della sua storage chest E poi ucciderci tutti quanti, ok Sì, forse non tutti quanti, ma la maggior parte delle persone che abitano qui Forse Grab some supplies and... Devo mettere l'audio Ah no, l'audio è giusto, ok Ok Allora, prendiamo l'armatura Le bistecche Questa fantastica sborde sbordate E quest log Sì, prendiamo il quest log Allora, cominciamo su... Prendiamo... ok, perfetto Allora, tasto 3 Quest log Herobrine Return Ok Ok, la città è 399 By Herobrine Return Gear up and make your way to the town Investgate Ok Devo visitare la città, quindi La prima missione è questa Adesso, prendiamo... Un attimo la spada Questa è la mia skin Perché non la spesse Mettiamoci l'armatura Perché è da pro mettersi l'armatura La bistecca ce l'abbiamo E possiamo andare all'attacco No 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 Ok Come vedete Spunano mostri fantastici Ogni mostro ha la sua armatura Ha la sua faccetta No no Non posso morire subito Ragazzi Non fate così Vi ho sempre voluto bene Lo sapete anche voi Che io sono un bravo ragazzo E vi faccio sempre la pasta Ogni volta che venite a casa mia Perché io vi voglio bene Vero? Eh? La scorsa volta vi ho fatto anche la peperonata Ragazzi Non dovete essere così violenti con me Ok Benissimo Mmm Questa è la mia... No 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 Sono un arcele Non arcelearmi Ti voglio bene Ti voglio bene arcele Ok Cos'è questo? Lo so cos'è un arcele L'ho detto per 3000 volte Ok Se magari muori Perfetto E i mostri potrebbero dropparci ogni tanto Le loro armature e le altre cose E ogni armatura praticamente Ha qualche bonus in più Eccetera eccetera Adesso Noi siamo molto deboli Quindi Sarà un po' più complicato uccidere la gente Ok Vediamo cosa abbiamo Abbiamo una spada con 8 Ai 12 di damage No 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 Che è stato? Che è stato? Ah Ah sei stato te Bravo eh Mi colpisci da dietro eh Che poi non è dietro È da davanti praticamente Però Mi colpisci da dietro eh Scheletro schifoso Ok Benissimo E cosa abbiamo poi? Un'armatura con 5 di armor Comunque si abbiamo un'armatura schifosa Poi più avanti Ne troveremo in giro Bellissime Bellissime Essime altre Come vedete al lato C'è scritto souls Che sarebbero tipo I mostri che ho ucciso E con No zombie Non puoi venire qui Mentre io parlo I can feel his presence He has become stronger Sì Praticamente Lui Io sento Oh mio dio Wow È più figa questa di spada Wow È fighissima Sì Lui Noi Noi me Quindi il personaggio Sente che c'è Irobrine qui vicino E perché sente la sua aura maligna Di It's over 9000 forever Ok Tu sei buono Non sei buono Fantastico E tu sei molto A forma di pixel Non vuol dire niente A forma di pixel Perché Vabbè Dettagli Buongiorno zombie Avete una faccia molto sconvolta Lo sapete Dovreste andare A farvi una manicure Alla faccia La manicure alla faccia La famosissima manicure alla faccia Ragazzi Ricordatevi Di questa cosa Qui non c'è nessuno Ma ho Questa cosa qui Dov'è No Fanno schifo Ah no Questi sono più carini Benissimo Ho anche questa armatura È più figa Wow Stiamo diventando molto sbrilluccicosi In questa puntata Ed è molto bella Ok Io cercherò di commentare Come faccio di solito Sul mio canale Perché Non so come Ah Sì Non so come Oh mio dio Cos'è qualcosa Wow È a forma Di pixel Come quello di prima Oh mio dio Mi osserva Mi guarda Ok basta Andiamo avanti E andiamo a lottare Contro di lui Aiaia Io Oh Pixel da ogni parte Look Freehand Sì Freehand forever Proprio Vai E ora Irobrine Ti prego Non fare spodere Ogni cosa Che vedi davanti a te Perché Ecco Irobrine Parliamo da persone Mature Ok Voi leggete i sottotitoli Intanto Perché a me non mi va Più che altro Cioè ogni tanto Li leggerò Ma alla fine Quello che conta Oh mio dio Sono libero Sono libero Sì Wow Si è aperto solo questo Non me l'aspettavo da te Pensavo si apessero tutti Ok Oh mio dio Sto per piangere Oh ciao Victor Ora mi spieghi Victor Io ho fatto tutta quella strada In mezzo Oh mio dio Calmi Oh mio dio In mezzo Agli zombie Agli Agli Scheletri arcieri A draghi volanti Che mi sputavano fuoco E tu Adesso mi devi spiegare Come cacchio hai fatto Arrivare in città In così poco tempo Victor mi osserva In questo modo incredibile Victor sa Di essere Un supereroe Con dei superpoteri Teletrasportativi Ma non me lo vuole dire Ok Io direi di mangiare Qualche pezzo di carne E non grazie Non voglio cominciare con te Victor Mi stai antipatico Dall'ultima volta Che ti sei teletrasportato Fino qua Ok Ok Vederei Visto che siamo In questa città E dobbiamo andare Adesso andiamo un attimo A vedere le missioni Allora La seconda Devo visitare La chiesa E parlare con il prete Alern E la chiesa Sicuramente è questa Quindi Niente Direi che per questa puntata È finita Ditemi se su Agna Volete appunto questa serie Io ho provato a fare un video così Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace E passate anche dal mio canale Se volete E se volete questa serie Ricordatevi di Dirlo Nei commenti Non dirlo Aspettate Scriverlo nei commenti Perché Non credo si possa dire qualcosa Dentro i commenti Oppure si No 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 Ciao Bella guagna E Tunze tunze Grazie a tutti Grazie a tutti